Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Sono qua perchè Volevo fare un video Voi li vedete ovviamente tutti attaccati Anche se saranno in giorni diversi Perchè ovviamente purtroppo non fanno tutto sulla puntata Ma volevo farvi la reaction Per la prima volta Su questo canale Delle scelte del trono classico Di uomini e donne Non so se ve l'ho mai detto, non credo Ma io lo seguo ormai da anni Praticamente ero ancora le superiori Quando lo seguivo Quindi si parla di anni e anni fa Mi ricordo persino Francesco Monte che era il mio preferito Quindi immaginate quanto tempo è passato Ho deciso appunto di fare le reaction Alle scelte Quindi spero che vi piaccia, vi lascio alle scelte Ricordatevi di lasciare un like Ovviamente Ditemi nei commenti, vi prego, quali scelte A voi sono piaciute e quali no E se siete contenti dei nuovi tronisti E immaginavo di avere accanto una persona Solo una persona Che sei tu? E io ho capito che fosse Per la prima volta in me Questo sta muovendo Cerco di seguire le mie sensazioni Le mie emozioni Il mio cuore Io sento di essere felice Ecco C'è da dire che io preferivo Luca Sinceramente C'era il senso come persona Infatti sono felice Che l'abbiano messo sul trono Però vabbè Voglio dire Tanto alla fine la scelta Doveva fare i clarissimi Tutti felici Comunque è un vestito strafigo C'è da dire C'è da notare che i petri Non vanno neanche da loro Vanno tipo alle corteggiatrici di là Non ho parole Vabbè dai Diamo in maniera buona Su Carucci Madonna ma che cos'ha Le convulsioni Moria tipo quando finisce Vogliamo che ti le lanciano Fine Sì ma Vuol dire Che c'è solo Camilla Ma non ammette lo smoking Ma seriamente Con cosa Ma c'è gente che applaude seriamente Ce la fate Ma ce la fate Pensavo che non si capito No è stato Oh oh Sì vabbè C'è la mano Per i fondelli Tipo Mortina che ride Meglio che ridi va Non si è persa niente Va bene Guarda quella che si alza Ma pure che ho spregato i petri per queste No scusate ma io ero mortina tutta la vita Cioè Ancora Cioè Tra un po' Non so Prevedete di una stanza Cioè Seriamente Non commento Ma guarda quello Va bene Io dico no La scelta di Riccardo A parte che Riccardo è idiota Quindi Cioè Si è preso Quella giusta per lui Sì Grazie 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 Che ti avrebbe voluto dire la sinistra con te? Basta! Che merdi! Abbiamo fatto un percorso dove abbiamo certe volte trovato delle difficoltà, soprattutto verso l'inizio alla metà e ti rimproveravo di essere forse tanto impulsivo, un po' aggressivo in certe situazioni e soprattutto frettoloso. E per cui non essere frettoloso mi sembrava che potesse significare un po' di fatto. Ti prego arriviamo al punto! Cioè, giuro che sto morendo, eh? E dentro ha rimasto sempre di più. E' un vulcano di emozioni, un vulcano di erogia, un vulcano di impulsività. E in realtà ancora... Ma no, ma chi no? Più piacere, come mi sei dotato. Questa comunque sarà la scelta più bella, io lo so. E l'ho venuto, nelle ultime quattro settimane, per l'ultimo mese, non preparare i pali di Francesco, ma perché contesto sempre di me. Perché... Mi... Cioè, sono anche tre. E ho voluto, e voglio, come ho sempre detto, ci ho dedicato una certezza. E questo mi ha detto, oggi, è una tipa del cuore, perché non mi ci mette, sì. Ma no! Ma no! Magari si rispondi, eh, perché, cioè, stanno tutti morendo qua. Per il mio efeito è ilchenico progetto, perché nel che video è un coso è delty, perché per l'altro non è, ma sono mille volte su. Ma muaom경, è che bello. però non lo sto facendo gente vuoi che canta sì però volevo anche io il limone che hanno fatto il Larissa e Federico con i clarice cioè dai come la grazie